Quindi non ci incassiamo con canestro, non lo fanno canestro, solo in transizione, solo in contortietra, prendono il rimbasso, poi ti ha la palla sotto i gangi uguali, prendono il corno. Noi andiamo tutti a rimbasso, bisogna che i due, se non lo mettono i piedi in mezzo all'area, poi gli consentiamo un tiro da fuori, però almeno non prendiamo canestro sempre in contortietra. Noi andiamo a quei tiri, Nando, se siamo fuori equilibrio, prendiamo contortietra, stiamo attenti a quei tiri.